L'Italia oggi è tutta in giallo, dal 2 giugno inizierà a tingersi di bianco con tre regioni Sardegna, Friuli, Venezia, Giulia e Molise che passeranno in questa fascia. A seguire il 7 giugno Abruzzo, Veneto e Liguria. La 14 poi ci saranno altre regioni se i dati epidemiologici continueranno a migliorare. Fascia bianca che comporterà la fine del coprifuoco e di altre limitazioni, anche se occorrerà mantenere la mascherina e il distanziamento interpersonale. A rendere possibile questo passaggio il miglioramento dei dati epidemiologici con un'RT nazionale allo 0,72 e l'accelerazione nella campagna vaccinale. Il miglioramento della situazione fa crescere anche la fiducia delle imprese, quanto emerge dall'indagine dell'Unione Europea delle Cooperative, UECOP, in riferimento agli ultimi dati Istat sull'indice di fiducia delle imprese che passa dal 97,6 al 106,7 di maggio. Oltre tre aziende su quattro, il 76%, pensano che la ripresa potrà arrivare entro il 2021 con la riapertura post-pandemia e l'avanzare della campagna vaccinale dal nord a sud della penisola per uscire dall'emergenza Covid. Secondo l'indagine di UECOP, i primi settori a riprendersi saranno nell'ordine del turismo, l'alimentare e i servizi alle aziende, dalle pulizie alla logistica, dalla sicurezza all'informatica. A seguire gli altri comparti, dall'immobiliare allo spettacolo, dallo sport all'abbigliamento. Una situazione confermata dai dati Istat che sottolinea UECOP registrano una netta crescita della fiducia nel settore del turismo e in quello del trasporto e magazzinaggio. L'incremento riguarda tutti i comparti, ma è nei servizi, conclude UECOP, che si rilevano i giudizi più positivi e le aspettative di crescita dei fatturati nei prossimi mesi.